Allora c'è una battaglia, mi sembra giusto che ubbidire alla richiesta di Rosy Bindi anche perché in questo periodo è molto impegnata su tutti i fronti, di fatti quando l'ho salutata l'ho detto sempre nell'occhio del ciclone e questa forse è una frase che mi ricorda appunto come sempre nell'occhio del ciclone è stata Nilda Iotti quindi per questo è una frase ben augurale diciamo da questo punto di vista. Io sono qui solo per un saluto perché come sapete il presidente onorario è una persona che con il cuore partecipa molto e effettivamente invece il grande lavoro compiuto negli ultimi due anni dalla Livia Turco e dalle tante amiche e amici e cittadini e cittadini è stato particolarmente faticoso e oneroso per arrivare alla costituzione proprio della fondazione attraverso un comitato che ha dovuto faticare tanto per tanti motivi però quello che è interessante è che in questi ultimi due anni in particolare sono sorte tante iniziative che sicuramente incoraggiano anche il lavoro della fondazione iniziative spontanee in grandi città come Piacenza o in piccoli paesini come possono essere Ozzano iniziative culturali proprio volte a sottolineare alcuni dei principi guida che hanno stimolato l'azione politica e culturale di Nilde Jotti che ognuno di noi può andare a vedere anche attraverso una rivisitazione dei suoi discorsi parlamentari e altri contributi che sono stati fatti durante questi anni ma anche prima diciamo che sono avvenuti un po' in silenzio, un po' in sordina queste iniziative spesso un piccolo paesino della Sardegna Barletta, Catania, cioè posti differenziati che io credo che la fondazione potrà avere la funzione di riuscire a costituire un punto di riferimento. Questo perché tante persone vorrebbero fare qualche cosa ma hanno bisogno logicamente di poter inoltrare diciamo delle idee e di coagularle in un progetto più specifico a seconda delle situazioni. Oggi mi sembra che appunto la prima uscita tra virgolette era quasi logico pensare al festeggiamento dei 150 anni dell'unità d'Italia a tutte le problematiche annesse alla Costituzione della Repubblica Italiana di cui Nilde Jotti sicuramente è stato non solo fattivamente un promotore negli anni 46-48 ma soprattutto successivamente ha portato avanti alcuni principi guida che tuttora sono estremamente importanti e alcune battaglie, alcune lotte, alcune conquiste che rischiano ogni momento di essere messe in discussione e che quindi vanno riprese in mano dai cittadini attuali per riaffermarne non solo l'attualità e naturalmente la modernità ma anche per mantenere dei punti fermi che non vedano fallito un lungo cammino di 50 anni della storia italiana che in questa fase storica sembra conoscere dei momenti particolarmente difficili. Per questo appunto persone come Rosi Bindi, Livia Turco, Rosa Russa Iervolino eccetera, sono persone che sono in prima linea e fanno molta fatica credo a mandare avanti il loro lavoro e io le ringrazio non solo per essere presenti oggi ma perché so che su di loro tutti quanti possiamo contare quindi a questo punto ridò la parola a Rosi Bindi. Grazie. Grazie. Grazie.